ci siamo ci siamo bene ragazzi bentornati su noi malati di foot questo è il recap del foot champions che vi avevo promesso insomma nel nostro vecchio video e come avete visto partiremo in live su twitch dalla settimana prossima con la weekend league con tutte le mattine insomma con foot su un canale che non è quello di jovi sempre noi malati di foot si chiama comunque e cosa vi volevo dire allora ho iniziato questo percorso appunto con una squadra da 50k ho fatto nella weekend league argento 1 ma ero partito con una squadra da 20k poi perse 4 5 partite mi sono reso conto che dovevo fare qualche upgrade tipo screener che ora ho venduto perché il prezzo è abbastanza alto e quindi ho giocato la weekend league con questa squadra come potete vedere dai numeri di quagliarella ben 21 gol in 44 partite ho fatto anche rivals anche partite singole per sbloccare insomma gli obiettivi muriel che ha fatto anche molti gol con questa squadra così scarsa ho capito mi sono divertito moltissimo e vi posso dire che usare una squadra scarsa vi aiuta a sviluppare un gioco che vi può rendere diciamo meglio anche il papu diciamo il top player della squadra florenzi e cose molto forti grande sorpresa è stato radu che mi ha reso veramente bene e vicino a screener ha giocato bene ovviamente ho avuto bisogno di fare qualche piccolo upgrade però vediamoci qualcosa del food champions qualche goal in particolar modo per farvi vedere insomma come come me l'ha so giocata penso che questo sia del food champions no questo qua è un pacchetto ok questo credo che sia del food champions insomma ah vabbè questo è insomma nel ruolo dell'avversario allora vediamo qualche altra cosa vi ripeto ho fatto argento 1 ho fatto 12 vittorie avrei dovuto fare qualcuno in più però ho perso le prime partite perché avevo sbagliato squadra quagliarella a base che signori è devastante eh vabbè ne fa tanti insomma e domani aprirò i premi vedrò insomma chi mi uscirà ho fatto quindi poi qualche upgrade alla squadra e vi dirò come fare compra vendita perché ho fatto un po' di compra vendita e sono riuscito a fare discreti credit in questo account ho preso manolas embreciana a un buon prezzo questo è non scambiabile ho fatto ovviamente gli obiettivi settimanali e poi ho cambiato screener ho preso questo e l'ho pagato 30k perché questa sera sono uscita una sfida costano tutti molto poco e quindi vi voglio consigliare insomma giocherò anche questo food champions e poi il prossimo lo giochiamo insieme sto facendo come vedete molta molta compra vendita e vi consiglio una bella compra vendita con pochi crediti allora diciamo che dovete mettere 650 qualità oro questo è un tipo di compra vendita che però richiede molto tempo e molta pazienza se è 50 gli orari anche 700 non più di 700 però come vedete gli orari come sapete si scartano a 650 e una volta diciamo presi perché si prendono all'asta 600 700 si rivendono a 800 a 750 in base al giocatore si guadagnano tipo 100 150 crediti a carta massimo 200 se vi va bene anche qualcosa in più però comunque il guadagno è molto basso e richiede tempo se siete disposti a farlo però vi può dare delle belle soddisfazioni io sono riuscito a fare vi dico subito in questa settimana o meglio diciamo da ieri quanto ho fatto con questo metodo di compra vendita che comunque è un metodo appunto per chi ha la prima armi per chi ha pochi crediti soprattutto continuiamo a vedere insomma se a maxima 650 è ottimo raffaella 650 è molto molto buono da costa 700 è buono ed era anche mi raccomando quando ci sono le sfide c'è la sfida che il campionato portoghese è salito molto cosa vi volevo poi far vedere quanto ho fatto questa settimana di crediti insomma ho fatto 72.000 crediti in questa settimana cioè in questi pochi giorni con questo metodo di compra vendita vi ripeto un metodo impegnativo ma molto veloce non dovete aspettare avete subito le carte come vedete io continuo a vendere qua e continuerò a vendere io vi saluto domani apri premi del food champions farò un altro food champions e poi infine inizieremo a streammare e continuerò a migliorare la rosa nel frattempo un saluto a tutti qui e e e e Grazie.